eccoci signori bentornati sul mio canale oggi arriviamo con un'altra puntata di avido legge cose e torniamo con la vendetta degli unicorni di mario attiglieni anche chiamato il trono di spade italiano dalla critica e vi ho già portato diversi estratti questo credo sia il sesto estratto del libro e in questo caso ci inoltriamo verso quello che sembra essere un complotto quindi l'autore ha voluto darmi questo questa highlights da leggere quello che sembra un complotto quindi un tradimento nei confronti di restiner da parte di fulves personaggi che abbiamo incontrato lo scorso episodio di avido legge cose e che oggi andiamo a approfondire quindi si capisce un po di più di loro ma vi lascio ascoltare non commentiamo oltre e ci vediamo dopo per i commenti finali restiner aveva invece optato per un altro tipo di portata voleva inaugurare l'anno in maniera diversa subito dopo il brindisi aveva chiesto a rosunda di ritirarsi nelle sue stanze l'avrebbe raggiunta a breve lui si sarebbe recato prima per un attimo in biblioteca perché voleva controllare una cosa l'enorme ala del castello piena di libri non era molto distante dalla gran sala e dalla sala del trono era lì in quella immensa biblioteca che steiner aveva passato quasi metà della propria vita quella che non aveva trascorso ad addestrarsi a combattere il giovane re poteva vantare la conoscenza pressoché completa di tutta la letteratura aesia sidia e rotila il parco libri era immenso si trattava della terza biblioteca più grande della zimania dopo quella di oriam il grande dentro il palazzo d'oro a mallon e quella fatta erigere ancora prima da mallon kellis all'interno della fortezza di avorio era in quest'ultima biblioteca nella soleggiata istmo che oriam kellis da ragazzo aveva studiato più di 60 anni prima storie geografia letteratura musica discipline economiche chissà cos'altro steiner ne era degno discendente forse persino meglio più completo di oriam il grande infatti tutto si poteva dire tranne che da giovane fosse stato un gran combattente e un grande atleta cosa che invece non si poteva negare per quanto riguardava steiner è questo che non era mai tornato al nuovo re di janubia come avesse potuto un così improbabile sportivo come si diceva fosse stato suo bisnonno da giovane vincere ogni singola gara dei giochi sacri dello stretto così da convincere i potenti della zimania di essere di fronte al prescelto della profezia di rogius la profezia dell'autunno steiner conosceva a memoria la biblioteca andò a colpo sicuro e trovò il libro che cercava sedutosi lo consultò a lume di candela pochi minuti più tardi si alzò di scatto sulla porta della biblioteca licenziò i due uomini di guardia e imbracciata una torcia si avviò da solo verso gli appartamenti della regina portando il libro con sé entrato nella camera di rosunda la trovò distesa nuda sul letto ad attenderlo fecero sesso come mai avevano fatto prima lei gli parve più sciolta che mai e pensò che finalmente aveva trovato con sua moglie l'intesa che aveva tanto desiderato questa notte forse abbiamo concepito il futuro re di janubia un principino tutto nostro bisbigliò teneramente steiner disteso nel letto forse è già successo fu il risolino complice di lei steiner con un agile movimento si rovesciò fuori dal letto e completamente nudo uscì dalla stanza per rientrare pochi istanti dopo rosunda lo guardò andare e tornare sforgendolo tra la luce tremula delle candele non era alto era tarchiato il pelo ispido e le fattezze del volto gli conferivano un fascino belluino che lei pensò in un'altra vita avrebbe potuto anche trovare accettabile addirittura forse sensuale prendi adesso leggami ordinò lui porgendo le due funi piuttosto robuste all'apparenza rosunda non ci poteva credere a quel punto pensò che attuare il suo piano sarebbe stato addirittura più semplice di quello che aveva previsto il re si stese il supino e lei cominciò legandogli la mano destra allo schienale del letto era alla mano con al dito l'anello di ebano l'unica cosa che steiner non toglieva mai non lo aveva mai tolto nemmeno per un momento da quando prima di partire per reprimere la rivolta a feng lo aveva sottratto a suo padre era quasi l'alba quando rosunda si pote gettare esausta su un lato del letto l'idea era quella di fare entrare ser fulves armato di spada solo quando steiner si fosse addormentato il cavaliere rotilio lo conosceva bene si era raccomandato con la regina di non sottovalutare le doti di guerriero di steiner nemmeno si è disarmato nudo e magari anche legato al letto se si tratta di uccidere mio marito mentre dorme aveva obiettato in un primo momento rosunda allora posso farlo anche da sola lascia perdere aveva replicato fulves non sai quello che dici steiner non dorme mai ci ho combattuto insieme ed è più temibile quando immerso nel mondo dei sogni che da sveglio ricorda che ha l'anello secondo me è un terzo occhio che resta aperto quando lui dorme prova piuttosto a toglierlo se riesci è più forte lui con l'anello che io con la spada già l'anello rosunda aveva pensato di sfilarglielo seguendo le indicazioni dell'amante tanto più che steiner si era lasciato legare al letto ma che senso ha rischiare di mandare tutto all'aria farlo insospettire per niente solo per la superstizione di quel bifolco di fulves aveva pensato mentre il marito ansimava sotto di lei ser fulves entrò nella stanza cercando di non far rumore simultaneamente rosunda scese quatta dal letto spostandosi in un angolo della stanza a rivestirsi e a pregustarsi la sua vendetta da un posto in prima fila ucciso steiner lei e fulves sarebbero fuggiti insieme il principe antocian benché all'oscuro di tutto avrebbe dato loro rifugio anche a costo di scatenare una guerra pur di difendere il figlio si sarebbe ribellato alla ghirlanda se necessario questo era quello che la regina aveva promesso al proprio amante dai capelli rossi ma il vero piano della regina era un altro sapeva di essere incinta anche se non sapeva chi fosse il padre del bambino particolare di poca importanza morto steiner per mano del cavaliere dell'autunno rosunda avrebbe cominciato a gridare e a chiedere aiuto accusando fulves dell'assassinio del re a quel punto avrebbe preso il potere la legge janubia prevedeva che in attesa della nascita dell'erede al trono si nominasse un reggente di solito la regina nato un figlio maschio la vita per rosunda sarebbe stata solo in discesa essendo madre del nuovo re di janubia se fosse invece nata una femmina il principe stiffer sarebbe diventato re quella era la peggiore delle ipotesi ma era comunque buona perché prevedeva che rosunda se ne sarebbe per esempio potuta tornare a feng con la figlia appagata per aver vendicato la morte del padre e la rovina della propria casata oppure avrebbe scambiato la figlia con un maschietto comprato da qualche popolano potendo rimanere così saldamente al potere fulves avanzò verso il letto raggiungendo il lato destro e si preparò a sferrare un colpo si sentì un vile un codardo uccidere il re a cui aveva giurato fedeltà con cui aveva combattuto e condiviso una vittoria epica per di più un uomo disarmato nudo nel proprio letto di lugiai pensò che non c'era niente di onorevole in ciò nulla dello spirito dei codici cavallereschi che fin da piccolo gli erano stati inculcati al pari di un insegnamento religioso ma per una donna del genere ne vale la pena si assolse ser fulves scorgendo rosunda con la coda dell'occhio se non vale la pena sacrificare tutto per il desiderio di una donna così bella allora non vale neanche la pena vivere la regina osservava da un angolo della stanza ancora provata dall'intensa attività fisica aveva gambe deboli nel semibuglio della camera da letto gli occhi della ragazza sembravano risplendere di un viola ancora più profondo quasi malvagio dilatandosi come due enormi lampade diafane pronte a gustarsi la loro vendetta ma avvenne l'imponderabile steiner sbarrò l'occhio nero pulves lo vide e restò paralizzato per un secondo fu solo un istante ma fu sufficiente perché il re bianche mura colpisse con un calcio l'aggressore nel basso ventre il cavaliere rotilio si accasciò a terra mentre la sua spada era già volata poco lontana atterrando con un suono metallico il re vibrò il pugno destro al cielo la mano con l'anello schiantando la corda dallo schienale del letto liberandosi poi la sinistra pulves era dolorante ma riuscì a riguadagnare la spada e si gettò su steiner che si difese con una sedia di legno che aveva recuperato non lontano dal letto rosunda si lasciò sfuggire un grido a quel punto era davvero terrorizzata nel frattempo anche in un'altra ala del castello nero il silenzio della notte era stato spezzato da un improvviso trambusto nix foscar lorde di hymns e arconte alle spada sembrava essersi destato di soprassalto e ordinava i suoi uomini di armarsi e seguirlo presto venite con me tonava con la sua voce squillante e il piglio autoritario che lo distinguevano un folto gruppo di cavalieri assonati e storditi si drizzò sull'attenti al passaggio del lord che era già vestito di tutto punto indossava la sua armatura più scintillante raffigurante l'orso bianco simbolo della sua nobile casa gli appartamenti degli ospiti erano nella medesima ala del castello e quel trambusto insopportabile non poteva destare anche dante in un primo momento pensò che achille fosse rientrato insieme ai suoi amici e alle loro temperanze achille provò a chiamare prendersi presto conto che del figlio non c'era l'ombra e soprattutto che l'agitazione e il movimento all'interno del castello crescevano doveva trattarsi di qualcosa di serio indossò quindi in tutta fretta una vestaglia che aveva trovato su una sedia e cercò di guadagnare alla porta della sua stanza cosa accade domandò spaventato a un soldato foscar che si ritrovò di fronte in mezzo al corridoio mio signore tentò una risposta l'uomo con la tipica cadenza di hymns ma fu interrotto da una lunga folata di guardie bianche mura e foscar che invase il corridoio dante vide incedere lord nix con passo nervoso e marziale il re è in pericolo lo sentì dire l'arconte alla spada si fermò nel punto del corridoio proprio di fronte alla porta della stanza di dante ma non lo calcolò affatto il re è in pericolo ripete il signore di hymns che poi rivoltosi a un suo uomo aggiunse ser cregar tu invece raduna una dozzina di uomini cerca il principe stiffer e prendilo in custodia era l'alba la prima di quel nuovo anno e il primo sole tingeva il cielo di barde con colpi rosati di dita dante guardò fuori uno dei grandi finestroni del corridoio che davano sul cortile interno del castello nero aveva ricominciato a nevicare quando l'ultimo cavaliere bianche mura chiuse il corteo dietro al lord foscar diretto negli appartamenti regali dante si fece coraggio e uscì nel corridoio afferrando istintivamente una labarda con le figie dell'orso che era rimasta abbandonata a terra intanto nella camera da letto della regina stava continuando la lotta tra i due energumini ed era impressionante come steiner brandendo una sedia di legno riuscisse a tenere testa fulves armato di spada il cavaliere rotiglio caricava e il re quando non riusciva a schivare il colpo utilizzava la scranna come scudo che incredibile a dirsi non cedeva o come arma offensiva arrivando a un paio di volte a sbattacchiarla sul muso dell'avversario ser fulves si asciugò un rivolo rosso che gli colava da un labbro a seguito di una legnata i suoi occhi verdi erano iniettati di sangue per la rabbia ebbe come la percezione che quel duello a morte gli facesse riemergere una violenza repressa che nemmeno lui sapeva di avere sentiva come se tutti i suoi antenati rotili gli scorressero nelle vene incitandoli a vendicare millenni di soprusi da parte degli aesi e dei sidi finitela che vi prende urlava fintamente rosunda caso mai steiner avesse avuto la meglio il re bianche mura urlava imprecava maledicendo il rivale con offese e minacce in realtà non poteva credere a quello che stava succedendo e soprattutto non ne capiva la ragione aveva avuto l'impulso di svegliarsi di colpo e battersi come se un istintivo meccanismo di autodifesa gli avesse fatto ribollire il sangue adestato la mente considerò che il comportamento di fulves non avesse apparentemente senso il cavaliere rosso si limitava a vibrare colpi sempre più forti steiner invece doveva semplicemente sopravvivere e poi si sarebbe occupato del resto avvertì una forte fitta allo stomaco come se gli si fosse chiuso realizzò che sarebbe potuto morire non c'era mai andato così vicino ed ebbe paura decise che avrebbe dovuto fare qualcosa e lo fece rosunda se ne stava tremante in un angolo tutta cartocciata il re ebbe una strana sensazione capì e giurò vendetta pulves di luigi ai si lanciò contro il sovrano per l'ennesima volta e steiner però ancora il colpo con la sedia di legno che continua a resistere come se fosse stata fatta di ferro oppure spennellata con l'olio magico dell'arco di ebano il giovane re non sentì l'odore ma nel respingere l'attacco scaventando il rivale a terra in fondo alla stanza notò del sangue gocciolare dalla sedia solo guardando meglio un istante più tardi steiner bianche mura si accorse con orrore che il colpo era andato a segno gli aveva staccato di netto il dito medio quello dell'anello persino la regina dall'altro lato della stanza scorse chiaramente del puro terrore umano negli occhi neri e terribili del marito che da un lato inorridiva alla vista di una parte di sé mutilata dall'altro comprendeva che sarebbe stata la fine ser fulves si era nel frattempo rialzato in piedi e anche lui aveva notato la ferita sanguinante il dito reciso era volato da qualche parte sul pavimento il cavaliere rosso si fece coraggio nella superstizione di aver disarmato l'avversario di quella che lui riteneva essere l'arma più micidiale tornò dunque all'assalto con foga moltiplicata e a quel punto la spada divise in due la sedia come se fosse stata fatta con il burro di castelmulino calando letale sopra steiner il re si accasciò a terra traendo un urlo buio sentendosi lacerato in mezzo al petto da un dolore mai provato prima in vita sua quando riaprì gli occhi la vista era annebbiata per sempre il sangue gli rombava assordante nelle orecchie finiscilo alla gola udì l'ordine esultante di rosunda ma a quel punto non aveva più importanza niente aveva più importanza fulves di lui già gli fu addosso estrasse dallo stivale un pugnale con un colpo chirurgico gli segò la gola steiner si sentì perdere completamente di sentimento come se tutte le sue membra andassero sciolte qua e là vide la sua vita scivolare via da lui in un lago nero e caldo che in pochi attimi sentì sulla pelle immergendovi la faccia come un acuto finale della propria vita come un'ultima nota virtuosa ma al tempo stesso come una prova di accusa la sua carotide recisa sparò un ultimo fiotto sottile ma potente volò veloce fino a macchiare il vestito della regina al lato opposto della stanza per il creatore ser fulves non aveva ancora avuto il tempo di rialzarsi da sopra il corpo del re che sentì una voce autoritaria ma sconvolta entrare nella stanza il cavaliere rotilio si voltò di scatto e vide lord nix foscar e con lui una pletora di soldati ser di luigi ai lady windworth in nome della ghirlanda vi dichiaro in arresto per tradimento prendeteli maledetto urlò la regina rivolta all'arconte fulves non fece una piega era riuscito nel cimento più difficile tutto il resto era niente al confronto perciò ferrò di nuovo la spada e con un unico colpo tagliò a metà i due cavalieri che foscar gli aveva mandato contro per primi poi afferrata rudemente per un fianco la regina ancora mezza nuda la trascinò con sé facendosi largo tra i nemici che rimanevano pressoché immobili terrorizzati alla vista della scena agghiacciante due uomini di hymes dovetterò immolarsi per proteggere lord nix che capitombolò anche lui a terra in quella ressa selvaggia inseguiteli non fateli sfuggire urlò foscar isterico ma era troppo tardi perché fulves e rosunda sembrarono subito dispersi nel chiarore del mattino mentre il sole freddo del primo giorno dell'anno proiettava timidi fasci di luce dentro il castello nero dante giunse pochi istanti dopo e con lui alcuni dignitari di corte anch'essi svegliati da tutto quel tumulto entrò nella camera e un conato di vomito lo assalì nel vedere il corpo del giovane re a terra in un enorme lago di sangue si fece coraggio e avanzò nella stanza impronte schizzi rossi erano ovunque come può il corpo umano contenere così tanto sangue fu il suo primo pensiero guardò il cadavere di steiner bianchimura già freddo di morte bianchissimo sembrava essersi già completamente svuotato prosciugato di ogni umore vitale sarebbe potuto essere un grandissimo re penso forse è il vir virorum era quando ho scritto il libro non ho individuato quale sarebbe stato il secondo prescelto della profezia dell'autunno il successore di oriam ma credo che effettivamente lui avesse tutte le caratteristiche per esserlo io non avrei mai ucciso un personaggio del genere non me la sarei sentita questo è il classico caso in cui la realtà supera l'immaginazione o l'immaginazione supera la realtà intorno al cavaliere di steiner si erano subito assiepati un nugulo di maestri e dignitari vari con lord foscar a sovrintenderli dall'alto come un falco era arrivato anche un logos con un paio di loghe per gli adempimenti religiosi assicurati che se regare i suoi uomini abbiano preso in custodia il principe stiffer dante sentì bisbigliare il signore di hymns a un suo attendente il principe non è al castello uscito a fare a baldoria con alcuni amici fu la risposta ancora bisbigliata e prima che nix avesse il tempo di aggrottare le sopracciglia nere il soldato aggiunse ser craig è già uscito dal castello e ha sguinsegliato i suoi uomini per tutta barda lo troverà a breve eccoci tornati ditemi cosa ne pensate ovviamente nei commenti qua si nota anche che c'è questo intrigo appunto tra le famiglie tra i vari personaggi che chiaramente senza aver letto il libro si fa un po fatica a individuare ma insomma come al solito vi invito a dare un'occhiata anche all'acquisto del libro trovate il link in descrizione al video niente quindi vi saluto ci vediamo mercoledì prossimo spero per un'altra puntata di avido legge cose e niente quindi mi raccomando commentate mettete mi piace iscrivetevi al canale le solite raccomandazioni di sorta attivate la campanellina in generale sulle premiere che vedete perché ogni giovedì escono i capitoli del trono di spade e niente vi invito anche a seguirmi sui social quali instagram e tiktok se volete sostenermi è sempre ben accetto ciao a tutti signori un abbraccio ci vediamo presto